Si è svolto nei giorni scorsi a Sassari il casting per la prossima edizione di Miss Italia. Abbiamo sentito alcune delle partecipanti. Vediamo il servizio di Emanuele Floris. Il casting di Miss Italia arriva in città. Diverse ragazze del Nord Sardegna hanno partecipato nei giorni scorsi alla selezione del celebre concorso. Come primo casting abbiamo scelto Sassari. Qui dall'amico Roberto Stella abbiamo incontrato un piccolo gruppo di aspiranti Miss che poi saranno richiamate per partecipare alla stagione del tour di Miss Italia per la Sardegna. Tante le emozioni diverse e le motivazioni di chi ha presenziato all'iniziativa. Abbiamo visto io e i miei genitori che avevo un po' di potenzialità e poi mi sono iscritta quasi per gioco. Non pensavo che mi cercassero, non pensavo di venire qua. No, non è mai vecchio Miss Italia perché ogni anno oppure sempre si sperimentano delle cose nuove e infatti Miss Italia è questo. Qualcuno pensa che Miss Italia sia un concorso che svilisce le donne trattandole solo come dei corpi. Le ragazze però non sono d'accordo. Anzi dà la possibilità alla donna volontariamente di mettersi in gioco, di migliorare l'autostima. Non è un qualcosa di forzato. Ma che cosa faranno le giovani se venissero scelte per la finale? Io festeggerò con i miei amici. Festeggerò. Festeggerò. Farò un piantino leggero perché non ci crederei mai. Esatto.